Lo avevamo già raccontato nei giorni scorsi, sarebbe stata una partita difficile, una partita tosta perché la Lazio è una squadra intanto molto abile tecnicamente, una squadra che sa palleggiare una squadra che sa giocare sia corto ma che gioca anche in profondità una squadra, come detto prima, fortissima tecnicamente, con forti individualità che possono in qualsiasi momento creare superiorità numerica, creare pericoli, essere pericolosi e in questa partita il Milan ha dimostrato grande maturità, ha alzato il livello della prestazione in termini qualitativi, in termini di scelte, in termini di ritmo, soprattutto specialmente nel secondo tempo ha aspettato, si è difesa organizzata e poi ha colpito e tutto questo, questi tre passaggi, li fa esclusivamente, solamente una squadra matura una squadra pronta mentalmente a colpire, ha aspettato il momento migliore ha aspettato che la Lazio calasse un po' nel secondo tempo e ha tirato fuori la sua qualità dai passaggi illuminanti di Adli, la magia di Reinders, gli strappi l'accelerazione di Teo di Raffaeleao, Raffaeleao ispiratissimo nel secondo tempo, ha servito l'assist prima per Pulisic e poi per Noah Okafor, un Milan quindi che trionfa, un Milan che domina la Lazio che gestisce la Lazio, che contiene la Lazio nel secondo tempo una vittoria ampiamente meritata, che certifica ancora una volta di come la profondità di Rosa perché poi chiunque è entrato meno Ciuquezza ma ha avuto meno tempo ha dimostrato di essere pronto, di essere, possiamo dire, già ruolato negli schemi nelle idee del nostro Milan, del nostro gruppo è una vittoria importante che dà un chiaro segnale al campionato italiano che il Milan, nonostante la nefasta sconfitta del derby ha reagito, ha reagito psicologicamente e si posiziona intanto aspettando la parte dell'Inter lì al primo posto nel segno di Pulisic, nel segno di Okafor determinanti i nuovi arrivati determinanti chiaramente anche i giocatori che hanno già possiamo dire scritto la storia rossonera Teornand e Celeao, Magnan ma tanto di questa vittoria, tanta di questa vittoria arriva dai piedi di Reinders che ha dominato in lungo e largo il centrocampo della Lazio arrivata con l'esfuriata destra e poi che si accentra di Pulisic l'imprevedibilità, la capacità di essere sempre al momento giusto, al posto giusto di Okafor. Una prestazione davvero eccellente del nostro Milan nel secondo tempo bene Florenzi come è entrato in campo benissimo Kier che ha anticipato spesso l'attaccante avversario bene Tomori quell'anticipo quella poi voglia di concludere ha dimostrato lo stato mentale la voglia la grinta proprio del Milan di queste ultime giornate di queste ultime settimane la voglia di determinare di essere lì protagonisti con la gamba nervosa di portare a casa le vittorie di arrivare prima sui palloni quindi complimenti a tutti complimenti ragazzi ottima vittoria godiamoci un bel weekend a Tinte Rosso Nere sempre sul canale YouTube di Rubrica Rosso Nera iscriviti al nostro canale e seguici sui nostri canali social a Tinte Rosso Nere